Il Partito Democratico Veneto risponde al via libera del Consiglio dei Ministri all'autonomia differenziata annunciato dal Ministro Calderoli con un disegno di legge costituzionale per chiedere che alcune materie siano escluse dalla riforma. Che la scuola non rientri tra le materie che possono essere oggetto dell'autonomia. La scuola è un pilastro della democrazia, della coesione sociale, non ci possono essere 20 scuole spezzettate in 20 regioni. Poi per chiedere che altre materie fondamentali come l'energia, come le grandi reti di trasporto, come le banche, rientrino in una competenza statale. Abbiamo visto quanto l'energia sia una materia che deve essere trattata a livello non solo nazionale ma europeo. Mentre il disegno di legge Calderoli si è appresa ad imboccare la strada del Parlamento, l'aula si animerà con l'iniziativa del PD che non arretra nemmeno sul tema dei leppi i livelli essenziali delle prestazioni. Noi proponiamo una legge di rango costituzionale, la nostra Costituzione prevede che abbia delle letture, due nelle rispettive camere a distanza di tre mesi. Quello che propone Calderoli è di per sé tortuoso, perché non sono definiti i tempi, perché non sono state coinvolte fino in fondo le regioni, perché ci sono critiche e rilievi da parte dei comuni e delle province, perché non sono stabilite neanche le risorse finanziarie per fare i LEP, i cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni, che sono fondamentali per garantire l'uguaglianza dei cittadini. La confusione la fa Calderoli. La discussione sulle materie, il punto cruciale della riforma, è in passato. Spesso l'avevano bloccata. Da sempre scuola e economia sono state terreno di scontro tra i partiti. Penso che questo disegno di legge contenga in sé una ragionevolezza molto forte, perché in tutta la discussione che è stata fatta anche negli anni scorsi dai governi Conte 1 e Conte 2, quando si è entrati sulle competenze, già allora queste materie non venivano considerate trasferibili, perché le regioni possono chiedere, come dice la Costituzione, il governo e il Parlamento, ovviamente non solo l'ultima parola, ma decide cosa trasferire.